Ciao Valentina, la prof di LinkedIn, oggi parliamo di come interagire con le persone attraverso i messaggi privati e soprattutto come portarle fuori. Io voglio portare fuori una persona da LinkedIn, LinkedIn è uno strumento, non è il luogo dove creare le relazioni. Le cominci dai quei piccoli input, ma per creare una relazione ci vogliono tanti anni, tanti giorni, tanto tempo, tante forze, perché poi le relazioni sono la cosa fondamentale nel business, se non hai fiducia con un fornitore, se non hai fiducia con un cliente, se non hai fiducia con un collaboratore, ma cosa fai, ma dove vai? E questo è il problema principale. LinkedIn ti dà proprio uno strumento scientifico che puoi misurare nelle azioni che fai e ti dà la possibilità di capire come andare a interagire con i fornitori, come riuscire a trasformarli attraverso i messaggi privati, due, tre messaggi, a trasformarli appunto in clienti o magari appunto in fornitori fedeli. Ma quello è il primo step, gli altri step li devi fare te e mi raccomando esagera sempre.